Decisione incomprensibile, commenta così l'assessore regionale al turismo Corrado Matera, la notizia apparsa sulla gazzetta ufficiale dello scorso 20 maggio che andava a rettificare l'articolo 112 del decreto rilancio dedicato proprio agli aiuti economici in favore delle aree maggiormente colpite dal coronavirus. Una posizione, quella assunta dal governo giallorosso, che secondo quanto dichiarato dall'assessore al turismo va in contrasto anche con quanto deciso dopo una lunga trattativa e che modifica quindi quanto stabilito inizialmente e pubblicato in gazzetta ufficiale. L'assessore Matera, nella giornata di ieri, aveva manifestato tramite l'emittente RAI il suo totale disappunto sulla decisione. Scelta inaccettabile quella di cambiare in una notte quanto stabilito inizialmente, escludendo interi territori colpiti dall'emergenza Covid e dichiarate zone rosse. Zone che, dichiara l'assessore regionale, hanno sofferto e continuano a soffrire per gli effetti di un'emergenza che oltre che sanitaria è sociale ed economica. Un dietrofronte del governo continua senza alcuna motivazione, dopo settimane di discussione e sollecitazione sulla questione accolto ufficialmente con la pubblicazione del decreto in gazzetta ufficiale e che penalizza fortemente, in primis, il Sud. Inammissibile per l'esponente regionale la decisione del governo che, con poche righe insedite in una rettifica pubblicata il giorno dopo l'ufficializzazione del decreto rilancio, ha escluso totalmente la Campania ed anche il Sud dalla ripartizione dei fondi. Difenderemo in tutti i modi e in tutte le sedi, continua Matera, le ragioni dei nostri territori. Ora, più che mai, abbiamo bisogno di uno Stato solidale. L'economia è in ginocchio, il governo deve infondere fiducia nei cittadini e non umiliarli con decisioni discriminanti. Chiameremo a responsabilità il governo affinché ritorni sui suoi passi e conclude, l'Italia riparte solo se riparti assieme al Sud.